Allora noi finalmente una vittoria qui a Perugia sudata, quanto siete felici? Sì, tanto, anche perché da come eravamo partite non prometteva bene, quindi sono contenta, siamo partite un po' tese, si è visto secondo me, poi comunque loro devono salvarsi e sapevamo che non sarebbe stato semplice, però siamo state brave poi a riprenderci, a rilassarci un attimo e a fare le nostre cose, perché alla fine quando facciamo le nostre cose si fiamme bene e portiamo a casa i punti, quindi sono contenta, speriamo di continuare così. Ecco adesso ci ha scritto un'ultima partita con Gusto prima dei playoff, qual è l'obiettivo? Con Gusto l'obiettivo è riscattarci dalla brutta sconfitta che abbiamo fatto in casa loro, quindi ora lavoreremo bene questa settimana per prepararci al meglio, perché comunque con la sconfitta, giocando in quel modo, ci è rimasta un po' qua, quindi scenderemo in con il tello tra i denti.